salve a tutte e benvenute al meeting la cultura come garante della parità di genere promosso organizzato dalla commissione pari opportunità della regione abruzzo per la giornata internazionale della donna incontro di oggi vuole una riflessione per capire a che punto siamo sul raggiungimento effettivo della parità di genere la parità che è stata posta tra gli obiettivi strategici della agenda onu 2030 e ne parliamo qui con cinque donne che ricoprono posizioni di spicco nei settori della formazione del sociale dell'associazionismo sono presenti l'avvocato maria franca d'agostino presidente della commissione regionale pari opportunità abruzzo la dottoressa antonella pallone presidente della nuova camera di commercio del gran sasso d'italia la dottoressa marisa tiberio presidente con commercio chieti del gruppo terziario donna con commercio chieti e componente del funzione nazionale gruppo terziario donna la professoressa fiammetta ricci docente di filosofia politica e delegata del rettore alle pari opportunità dell'università di teramo e infine la dottoressa rosa pestilli presidente dell'organismo paritetico nazionale partecipazione con gestione nonché vicepresidente della commissione regionale pari opportunità allora avvocato maria franca d'agostino ancora oggi si parla di questione femminile come si può rappresentare la presenza delle donne nei ruoli apicali e di potere nella politica e nelle istituzioni della nostra regione prima di tutto buon pomeriggio a tutti e ringrazio le relatrici che hanno accolto il mio invito di essere qui oggi per portare una loro testimonianza ed un contributo negli specifici ambiti di competenza e per omaggiare insieme la donna e permettetemi un ringraziamento alla dottoressa francaterra componente della commissione regionale per opportunità che ha permesso di realizzare anche quest'anno un evento nonostante il covid e mettendo ancora una volta a disposizione della commissione la sua professionalità e la sua esperienza di giornalista e per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta ritengo che il ruolo delle donne nella politica debba essere un tema centrale per i diritti stessi delle donne partecipazione e può cambiare la prospettiva e la modalità di affrontare i vari temi della politica e dell'intera collettività e mi rifaccio un attimo il discorso della vicepresidente malchese del consiglio europeo roberta mezzola che nel discorso di ieri appunto ha sottolineato come le donne in politica abbiano cambiato il modo di fare politica e il mondo stesso un esempio di queste donne è la merkel oppure ancora maria sandu la presidente della moldavia che ogni giorno affronta battaglie per le riforme del proprio paese e per l'integrazione della moldavia nell'unione europea e via via le donne della bellorussia che quotidianamente sfidano strada il governo cercando di restituire la sovranità al popolo e potremmo parlare di tante altre donne nello scenario della politica europea e internazionale e tuttavia tornando all'italia vediamo che nonostante il diritto dell'elettorato passivo nel 1945 nel 1946 la donna ha avuto ed ha ancora oggi un ruolo molto marginale nella politica italiana ci sono volute molte leggi che prescrivessero delle quote di genere per far sì che le donne potessero accedere alla politica si pensa alla riforma e sulle quote di genere nelle liste elettorali del 2015 e poi del 2017 riforme che hanno contribuito ad un incremento maggiore della donna nella vita politica un incremento che tuttavia è comunque minimo e in particolare nella nostra regione se pensiamo che nel 2006 solo quattro donne erano candidate alla carica di sindaco e nel 2011 invece il numero saliva 20 ma su 70 comuni solo 5 avevano donne che rivestivano la carica di sindaco solo nel 2017 vi è stato un aumento proprio appunto come conseguenza della normativa intervenuta e dove le 33 donne elette hanno rappresentato però solo un 11 per cento dell'intero scenario dei sindaci della regione abruzzo e lo stesso diciamo numero esiguo di donne nella politica regionale lo abbiamo nel parlamento in quanto abbiamo solo cinque parlamentari e 5 consiglieri regionali che collocano l'abruzzo al quattordicesimo posto invece possiamo dire che è un primato negativo lo abbiamo con la giunta dove con un'unica componente femminile siamo all'ultimo posto insieme alla basilicata alle marchi alla valle d'aosta ora a fronte di tali dati sicuramente sconcertanti della presenza delle donne nella politica regionale abruzzese è evidente che i partiti devono ancora fare molto molto di più per aprire la strada alle donne politica ed è una notizia dell'ultima ora la nomina della consigliera sabrina bocchino quale portavoce della lega in abruzzo alla quale porgo le mie congratulazioni ed un plauso all'onorevole deramo per aver scelto una donna come portavoce del partito quasi a significare un cambio di rotta nella politica regionale abruzzese in favore delle donne grazie benissimo grazie allora dottoressa antonella ballone lei è la più giovane presidente in italia una camera di commercio ed è la prima donna appunto in abruzzo a ricoprire questo ruolo e che ruolo svolgono le donne per la ripresa economica della nostra regione quali sfide le aspettano nei prossimi mesi innanzitutto saluto il parterre qui presente e ringrazio la dottoressa d'agostino per questo gradito invito e la dottoressa franca terra il ruolo che le donne devono svolgere per il rilancio della regione un ruolo importante un ruolo molto direi devono essere protettore della regione e del sistema paese credo che la questione delle donne appunto questo tema non è una questione femminile ma è una questione paese non possiamo credo permetterci di non contemplare il talento femminile proprio nel uno scenario di rilascio le donne ovviamente ecco che lavorano anche per loro hanno una garanzia di libertà di sviluppo e appunto di benessere comunque socio economico sia personale che per diciamo che quasi si riversa nel nel territorio un dato che mi ha un po fatto riflettere che il 65 per cento delle donne che hanno dei bambini piccoli dei 0 a 5 anni comunque si ritengono indisponibili a lavorare questo è un dato che anche per la politica deve essere sicuramente attenzionato perché ecco ci vuole proprio un piano di interventi per tutelare in qualche modo da una parte i bambini cioè ecco e dall'altra anche le famiglie quindi sicuramente il tema di più asili nido deve essere ripreso così come l'offerta formativa proprio per quelle determinate fasce di età è molto importante e direi che anche per lo sviluppo economico del paese il discorso di rendere accessibile proprio a questi servizi un po tutte le famiglie cosa che al momento non è non è non è possibile come come sapete sicuramente anche il discorso di incentivare l'imprenditoria femminile questo è un tema pure che ci deve insomma riguardare perché l'accesso delle donne all'interno proprio delle anche dell'imprenditoria è molto importante e in questo senso ci vorrebbero sempre più ambasciatrici impresa benissimo grazie allora dottoressa tiberio quanto pesa nella nostra regione il settore terziario quanto conta la presenza del lavoro femminile nel comparto e quali sono le strategie da attuare per la ripresa del settore nella fase post pandemica buonasera grazie all'avvocato d'agostino per il l'invito che ho accolto con piacere grazie a lei dottoressa terra per questa disponibilità e pazienza nel collegamento il lavoro femminile una questione economica in italia 1,3 milioni di imprese femminili pari al 22 per cento del totale che danno lavoro a quasi 3 milioni di persone un numero in crescita anno per anno soprattutto nel terziario ma che nel 2020 ha subito un pesantissimo stop che ha praticamente annullato i risultati conseguiti in questi anni anche l'Abruzzo e la provincia di Chieti in particolare vantava una bellissima maglia rosa a livello nazionale con una forte presenza di donne capitane d'impresa ma come ci conferma anche Union Camere le donne del terziario di mercato stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal covid. Dobbiamo certo continuare a costruire il cambiamento con mentalità aperta alla sfida investendo sulla leadership delle imprenditrici perché non siamo più ma non siamo ancora intendendo che moltissimo è stato fatto nel corso di questi anni ma la strada è ancora lunga ma la via tracciata è finalmente quella giusta. Grazie. Allora professoressa Ricci quando si parla di questione femminile non deve essere vista cosa fosse solo un problema delle donne ma che cosa significa oggi promuovere la cultura di parità di genere? Buonasera a tutti grazie dell'invito particolare all'avvocato Maria Franca D'Agostino ma a tutta la commissione di pari opportunità che ha organizzato questo scambio, questo confronto tra donne per la giornata internazionale della donna. Innanzitutto la cultura di genere, la cultura di parità io dico sempre che è un'opera polifonica perché bisogna intonare più strumenti, bisogna mettere in campo, non basta semplicemente mettere in campo solo strumenti ad esempio di carattere giuridico, di carattere solo politico, sociologico, economico, imprenditoriale ma bisogna creare davvero un sistema di correlazioni che implichi e che richieda assolutamente anche la partecipazione e la collaborazione anche dell'uomo. Io riflettevo proprio questo concetto di sforzo, di relazione, oggi credo che sia uno degli imperativi poiché non possiamo andare avanti lasciando indietro delle parti, no, di umanità. Come dice Lusiri Garella, la democrazia comincia a due, uomo e donna e quindi bisogna costruire una cultura di parità partendo dalla relazione. Però è anche molto importante fare un lavoro che io chiamo archeologico e genealogico e prendo in prestito un lessico di Michel Foucault, questo lavoro di archeologia del sapere, della cultura, cioè bisogna tornare e scavare, tornare a scavare e analizzare un po' le radici da cui la cultura occidentale poi ha sviluppato e maturato un pensiero che è un pensiero che si è sempre declinato e si è sempre espresso al maschile. Questo è molto importante perché se noi non prendiamo consapevolezza, noi donne ma ovviamente insieme agli non prendiamo consapevolezza da dove ha origine, da dove ha origine ancora una forte cultura misogina, da dove ha origine questa difficoltà di riconoscere la donna una credibilità, una autonomia e soprattutto da dove ha origine anche questo pensiero, come sapete i greci lo chiamavano, lo chiamavano, noi oggi guardando un po' a come si è sviluppato il pensiero politico greco, lo definiamo falo logocentrico, quindi centrato proprio sul pensiero maschile che domina, che governa, allora se noi non ridisceniamo le origini, le radici, io credo che molti fenomeni, molte criticità contemporanee, tra le quali una delle piaghe è il femminicidio, cioè questa violenza continua perpetrata sui corpi delle donne, anche qui sarebbe molto interessante poter aprire un discorso, ecco io credo che rimarremo comunque, non dico perdenti, non dico che sia il nostro impegno destinato al fallimento, ma certamente gli sforzi profusi non raccolgono i frutti che noi auspichiamo e che sarebbero auspicati, quindi evidentemente c'è un problema appunto di sguardo d'insieme e di complessità. Benissimo, grazie. Allora dottoressa Pestilli, la formazione è un volano per il cambiamento culturale, secondo lei il piano regionale della formazione è adeguato alle esigenze attuali per il rilancio del paese e per la valorizzazione delle donne come risorsa per lo sviluppo? Buonasera a tutti, buonasera alla dottoressa Franca Terra, allora assolutamente credo che in questa fase emergenziale, e ormai non è più una fase emergenziale ma stiamo parlando di un anno di pandemia dove ci troviamo in un cambiamento del sistema lavoro, quando si parla di trasformazione, di cambiamento del lavoro c'è anche un'innovazione dal punto di vista formativo e di quelle che sono le qualifiche professionali. A tal proposito la Regione Abruzzo ha iniziato un progetto nel 2017 adeguandosi a quello che è il ricevimento del decreto 1313 in seguito alla riforma della legge Fornero che il progetto vale, un progetto di valore e legalità che è quel sistema, quel progetto che ha appunto lo scopo di certificare le competenze e per implementare in quello che è nel territorio della Regione Abruzzo quelli che sono i metodi, gli strumenti, tutte quelle risorse finalizzate a destituire il sistema regionale di messa in valore degli apprendimenti che sono apprendimenti formali, non formali e informali. Cosa vuol dire? C'è una proposta formativa, ci sono dei repertori, delle qualifiche e degli standard formativi, si sta cercando di standardizzare tutte le procedure in modo tale che una qualifica che viene rilasciata nella Regione Abruzzo è identica per contenuti, per conoscenze e abilità a quelle che sono le qualifiche rilasciate nelle altre regioni. Ovviamente considerando a monte quello che è l'Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni dove ci sono professioni regolamentate e non regolamentate. L'obiettivo è quello di mettere in rete gli strumenti ma mettere in rete anche le istituzioni pubbliche, private, camere di commercio, università, centri per l'impiego, organismi di formazione accreditate e agenzie per il lavoro affinché ci sia una più vasta richiesta formativa di progettazione anche adeguata al periodo che stiamo vivendo. Andrebbe fatta un'analisi del fabbisogno territoriale su tutte e quattro le province suddividendo le esigenze per territori ma anche quelle che sono le esigenze delle donne che lavorano all'interno del tessuto imprenditoriale di tutte e quattro le province. Dopodiché ovviamente il progetto vale anche lo scopo di certificare le competenze con una missione di crediti di frequenza per riqualificare il mondo del lavoro, delle professioni ma dando una possibilità anche a quelle donne nell'ambito dell'inclusione sociale che non hanno avuto possibilità di formarsi a 360 gradi ma che hanno lavorato casomai con un contratto di lavoro non proprio a norma anche di non disperdere anni di lavoro e lavoro dietro anche un contratto di lavoro nero. Ecco, è questo l'obiettivo che abbiamo come regione. Però se non mettiamo insieme le istituzioni credo che sia complicato velocizzare questo sistema burocratico. Grazie. Dottoressa Ballone, volevo chiedere con il Recovery Fund o Next Generation Italia avrà a disposizione molte risorse dall'Europa anche per le politiche delle varie opportunità. Allora le donne secondo noi sono pronte a cogliere questa occasione e quali dovrebbero essere i progetti strategici per il raggiungimento della vera parità intesa come qualità della partecipazione femminile nella società. Dunque il Recovery che deve essere scritto in questi giorni entro il 30 di aprile diciamo che è l'occasione proprio per cominciare a, come dire, ad aggredire le disuguaglianze di genere. Il piano di Next Generation in qualche modo va proprio e deve tracciare una linea che va nel senso degli tipi affinché le donne possano entrare nel mondo del lavoro in maniera adeguata e da un punto di vista diciamo di autoimprenditorialità con tutta una serie di diciamo agevolazioni se vogliamo all'accesso al credito ad esempio, a dei finanziamenti a fondo perduto. Ecco, questi sono dei piani importanti proprio per far sì che le donne possano in qualche modo accedere all'autoimprenditorialità. Di contro, come sappiamo, c'è anche il PNRR che fa parte appunto del Recovery e in qualche modo lì vediamo che ci sono dei dati, non so, il 37% è stato dedicato alla transizione ecologica, il 20% alla digitalizzazione. Invece ad esempio sul discorso del sociale è stato lasciata questa percentuale da paese a paese varierata. Ecco, per l'Italia anche qui è un momento importante in cui si può inserire questa voce con delle percentuali anche delle risorse adeguate che possano in qualche modo da una parte contrastare il lavoro sommerso dall'altra allo stesso tempo proprio creare delle politiche attive al mercato del lavoro e questo è importante così come il sostegno alle donne proprio a partecipare alla vita lavorativa. Come abbiamo detto un sostegno anche fattivo può essere sicuramente dato da quei servizi dati dagli asili unito e quant'altro che sicuramente fanno parte anche di questo rilancio del paese. Una cosa importante è che, come detto, deve comunque il recovery andare un po' colmare questa differenza di genere. Alla differenza di genere sui numeri di chi partecipa alla vita lavorativa tra uomo e donna, noi come Abruzzo possiamo sommare anche la differenza proprio delle donne che lavorano tra nord e sud, dove le donne al nord d'Italia lavorano a circa il 60 per cento e qui al 33 per cento. Anche su questi, diciamo, dati, questi numeri un po' così netti sicuramente Next Generation deve puntare per fare assolutamente meglio di più e mettere le donne nella posizione adeguata per lo sviluppo paese. Grazie. Allora, dottoressa Tiberio, qual è stato il suo percorso attraverso il terziario donna per arrivare a ricoprire un ruolo apicale nella confommercio e che difficoltà maggiori incontrano, secondo lei, le donne rispetto agli uomini per arrivare a confommercio? Il terziario donna confommercio, di cui sono orgogliosamente componente del Consiglio nazionale, è stato per me una palestra, un laboratorio, ma anche un trampolino di lancio perché mi ha dato la possibilità di portare il mio punto di vista e la mia personale esperienza e associativa sul campo. Ho acquisito la consapevolezza del ruolo che noi imprenditrici abbiamo nel sistema economico del Paese e quindi della responsabilità di noi associazioni di rappresentanza che siamo la cerniera fondamentale tra sistema produttivo e sistema di governo. Il nostro gruppo poi ha fatto un lavoro faticoso ma egregio ed è stato chiamato ad intervenire come membro effettivo del Comitato nazionale di parità e di pari opportunità nel lavoro per definire misure specifiche per lo sviluppo dell'empowerment e dell'occupazione femminile, ma anche a far parte del tavolo per il fondo a sostegno dell'impresa femminile presso il MISE, finalmente costituito. Dopo questa esperienza nel gruppo terziario donna che comunque continua, sono entrata come presidente territoriale nel Consiglio nazionale e poi da pochi mesi in giunta nazionale e da un anno il ruolo apicale nella Fondazione Orlando che è la Fondazione di Confcommercio. Sicuramente un percorso faticoso, non privo di difficoltà, ma sappiamo che la strada dritta non ha mai prodotto grandi piloti. Grazie. Ecco, professoressa Ricci, facciamo in due minuti un breve scursus storico sul pensiero delle donne. Le chiedo quanto è, se oggi è conosciuto e promosso il contributo delle donne alla storia della cultura occidentale? Sicuramente è una domanda impegnativa da sviluppare in pochi minuti, però ecco la risposta che si può già dare è che c'è bisogno, come dicevo prima, invece davvero di ridare voce, di ridefinire, di ridare linguaggio a che cosa? Al pensiero femminile, al contributo che ha dato alla storia del pensiero occidentale, perché c'è ancora troppo poco, viene ancora troppo poco assente questa narrazione e questa proprio disseminazione culturale sia nelle scuole che negli Atenei. E' quello che io sto cercando di fare all'Università di Teramo, attraverso un'opera però che deve essere di continuità. Ecco perché la giornata internazionale della donna ci dà l'occasione di ribadire e di riaffermare tutte le cose che ognuno ha di noi, sta ovviamente affermando, ma l'impegno deve essere costante, continuo e quotidiano. Che tipo di impegno? L'impegno di ridare voce, come dicevo prima, io uso sempre questo, ridare voce e ridare parola a che cosa? Alle donne dal punto di vista di tutta l'espressione culturale che hanno prodotto e che hanno dato e che continuano a dare. Quindi far conoscere il pensiero di grandi filosofi, scrittrici, poetesse, astrofisiche. Ma questo perché? Non perché vogliamo avere una sorta di recupero su uno svantaggio culturale, ma proprio perché, a parte che si potrebbe anche parlare di questo, ma io voglio puntare invece il faro proprio sul grande potenziale, il grande serbatoio di idee, di innovazione, di risorse, di intelligenze. Pensiamo a questa frase di Virginia Woolf, che io cito sempre. Virginia Woolf diceva, non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente. E non c'è nessun architrave a cui potete agganciare una zavorra perché io mi possa lasciare incasellare e stereotipare. Ecco, io penso che già solo un'espressione di questo genere raccoglie davvero tutto l'intento, tutte le energie, tutto l'impegno che ognuna di noi sta anche mettendo sul terreno, sul tavolo, a seconda delle proprie competenze, i propri campi di applicazione e di professionalità. Allora bisogna che ridiamo voce a tutti i livelli, che ridiamo anche progettualità alle donne attraverso la possibilità di parlare. Cioè, concludo dicendo che c'è questo libro, è uscito adesso, di Michela Murgia, Stai zitta, proprio perché una delle, veramente delle aggressioni che vengono fatte da sempre alla donna è quella di togliergli la parola. Perché la donna quando parla, e la parola in questo senso è metaforica, la donna quando si afferma, viene temuta. Ecco, quindi ridiamo voce, ridiamo parola e ridiamo memoria a tutte le donne. Professoressa, dottoressa Pestilli, vorrei chiedere, ecco, oltre al problema di dover garantire il lavoro alle donne in questo momento, è necessario anche che per il loro rientro al lavoro ciò avvenga in sicurezza. Allora, in proposito, quali sono gli interventi da porre in essere e quali in senso le proposte da fare alle istituzioni per l'inizio di sostegno alle imprese? Cioè, allora, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, sappiamo che negli anni si è passati da un decreto 626 all'8108 dove parliamo di un testo unico della sicurezza sul lavoro che finalmente va a valutare una sicurezza sul lavoro partecipativa e quindi, in questo caso, a coinvolgere il tessuto del mondo dei dipendenti, dei lavoratori. Sono stati fatti, a tal proposito, proprio in fase pandemica, degli studi in Svezia e in Canada dove quello che hanno rivelato è che scarseggiano le ricerche condotte sulle differenze di genere proprio sui luoghi di lavoro e quindi la criticità è che viene standardizzato quello che è il processo della valutazione dei rischi a quello che è il vantaggio, ad un vantaggio proprio del mondo maschile e degli uomini. Quindi sicuramente dovrebbero essere coinvolte le donne anche nella fase della valutazione del rischio perché anche per quanto riguarda le malattie professionali vediamo che viene preso in considerazione sempre l'uomo medio e mai le criticità che sul mondo del lavoro possono avere le donne. Le azioni da mettere in campo sicuramente potrebbero essere avviare azioni di monitoraggio, di raccolta dati, di informazione sulla sicurezza sul lavoro anche in un'ottica di genere. Sappiamo che ci sono diversi progetti proprio per mettere in campo delle azioni su quelli che sarà il recovery fund ma mi viene da pensare anche al Fondo Sociale Europeo metterli in rete già nella nostra regione come ad esempio tempi di welfare, europeani di conciliazione in modo tale da favorire tempi di vita, di lavoro delle donne, coinvolgere più donne nelle decisioni della complianza aziendale proprio per la salute e sicurezza sul lavoro quindi in materia di genere ma tenere conto anche di quelle che possono essere le peculiarità individuate a partire dalle generi di appartenenza quindi vediamo anche che a livello nazionale il Ministro Bonetti l'abbiamo condiviso proprio oggi nella Commissione Pari Opportunità un progetto è proprio quello di favorire lo smart working però bisognerebbe anche migliorare proprio lo smart working per le donne per una tutela maggiore ma anche quella che è la didattica a distanza e quindi ricollegandomi anche alla dottoressa Ballone quando diceva di migliorare anche la progettazione per gli asidi nido e per i bambini che sono a casa è impensabile pensare allo strumento dello smart working a casa con delle donne che poi devono accudire anche i propri figli e allora lì si sfocia in un'altra problematica per cui io mi auguro che questo sia soltanto un primo incontro per mettere anche in campo delle azioni visto che ognuna di noi rappresenta quel piccolo tassello che potrebbe fare la differenza per le donne all'interno della regione Abruzzo grazie a tutte grazie Franca ultima domanda ultima bacione saluti alla presidente della commissione pari opportunità e a lei chiediamo appunto come intende la commissione intervenire per farsi garante della parità soprattutto per quelle donne che vivono in una commissione svantaggiata e soprattutto di disagio economico e sociale abbiamo pochi minuti quindi sarò molto sintetica allora la commissione pari opportunità sta lavorando su diversi progetti appunto per farsi garante della commissione della donna svantaggiata che lo è oggi ancora di più a causa del covid tra l'altro come organo autonomo di garanzia e con funzioni e propositive stiamo anche lavorando sulla legge dei centri antiviolenza che risale al 2006 e che risulta ormai superata sia dalla normativa statale che da quella appunto europea e quindi stiamo predisponendo insieme all'ufficio legislativo e alle responsabili dei centri antiviolenza una legge che tenga conto sia della nuova normativa che delle esigenze dei centri stessi e delle donne che si ritrovano nelle case rifugio e stiamo anche predisponendo dei progetti per agevolare l'inglesso delle donne nel lavoro con protocolli con enti con proposte di fiscalità agevolata che poi saranno presentate al presidente del consiglio come da legge istitutiva della commissione e riagganciandomi alla domanda precedente stiamo anche lavorando ad un progetto di monitoraggio di tutte le società pubbliche partecipate al fine di verificare la presenza delle donne nei consigli di amministrazione e quindi il rispetto della legge Golfo Mosca che ha fatto sì che molte donne potessero ricoprire incarichi in tali società Io credo che siamo giunti al termine quindi voglio ringraziare gli odierni partecipanti a questo incontro augurando in ogni caso che nella prossima programmazione che le donne possano essere messe nella condizione di poter effettivamente scegliere e di concorrere a pari con gli uomini e di poter anche esercitare un ruolo più significativo nell'ambito delle politiche del futuro in quanto non è più accettabile che la donna sia esclusa dalla vita partecipativa del nostro paese così come è stato anche detto dalle nostre e dalle altre relatrici e del resto io ritengo che un'assenza della figura femminile del contributo femminile nella fase di progettazione che è in atto a livello europeo creerebbe una una si avrebbe una politica mancante proprio della creatività femminile che è l'unica che è in grado di cambiare il passo della politica in una diversa prospettiva di uguaglianze di genere ancora grazie a tutti grazie presidente ringrazio tutte le partecipanti e a livello di spessi grazie a tutti